L'MBS è una scuola per imprenditore. La nostra promessa da sempre è quella di portare ogni imprenditore a far crescere la sua attività. Per farlo abbiamo riunito una serie di imprenditori e di coach. In questi due giorni, dove l'imprenditore viene a studiare e può permettersi di fare un percorso mirato, viene allenato e misurato nelle sue performance, al fine di tenere monitorato veramente i suoi incrementi. Se sei un imprenditore, all'interno di questa scuola è la grande opportunità di misurarti davvero con chi come te tutti i giorni gestisce un'impresa. Abbiamo riunito gli imprenditori migliori che hanno tenuto successi in determinate attività specifiche con cui tu ti puoi confrontare, oppure dei coach veramente preparati che ne sanno di risorse umane, sono esperti di marketing, sono esperti di finanza o comunque di qualsiasi altra materia tu possa necessitare all'interno dell'azienda. Se sei un imprenditore, il nostro obiettivo è quello di portarti a diventare uno specialista in gestione di imprese. Quando ascolti un tuo pari e ti fai guidare da un tuo pari o da qualcuno che casomai è anche più bravo di te, da cui puoi rubare delle cose, allora la tua azienda cresce e siamo un gruppo di persone che ha gli stessi valori, che ha mete grandi, che sa scherzare riguardo a far business, che non fanno i fenomeni, che a volte hanno anche sbagliato e quindi sanno quali sono gli errori. Non abbiamo obiettivi politici, non abbiamo obiettivi commerciali, non siamo lì per venderti qualcosa e quindi è un'unione tra di noi, aiutarci vicendevolmente per diventare grandi e per vincere la sfida sui mercati. Io posso assicurarti che l'esperienza MBS è straordinaria. Io frequento la classe MBS da due anni e mezzo e da quando ho incominciato sono sempre stata in crescita. La mia azienda sta esplodendo, sono veramente contenta di questo. Per cui per me MBS e le persone che ci sono qui è una scuola di vita, non solo di imprenditoria. Quindi viva i fatturati, ma viva le persone che ci sono qui. Da un 2016 chiuso in passivo, nonostante un fatturato per noi forte e molto alto, il 2017 dalle previsioni. Finiremo con un fatturato ben inferiore, con un utile del 200% in più dell'anno scorso anno, quindi non si può che essere entusiasti di queste cose. Cosa abbiamo fatto? L'attenzione nei particolari, non dare per scontato mai nulla, lavorare sempre sui ragazzi con cui collaboriamo, formarli, aiutarli a crescere e far sì che loro portino tutta l'attenzione necessaria verso i nostri clienti. Questo l'abbiamo imparato dove? Qui. Se sei un imprenditore devi assolutamente passare da qui e ti garantisco che la tua azienda non sarà più la stessa. Quello che succede in USM è difficile da spiegare, bisognerebbe provarlo. solo chi viene qua riesce a capire veramente il valore che ha o che genera questa scuola, perché all'interno si creano delle relazioni veramente uniche. Io sono sempre stato da solo, adesso ho diverse società. Che cosa sta facendo di vista grovatico oggi? Guardate, nel 2006, dicevamo prima, eravamo 15 persone. Noi abbiamo 39 sedi, tra dirette e in franchise sono 18 dirette e le altre in franchise. Abbiamo oltre 350 persone e è successo che l'azienda oggi, da che era una roba piccolina che fatturava qualche centinaia di miliardi di euro, arriverà a chiudere l'anno con circa 18 milioni di euro di fatturato. È iniziato che l'azienda comincia a essere guardata a vista dall'ambiente finanziario italiano. L'azienda oggi produce un EBITDA di circa 3 milioni e mezzo, con un utile netto di circa, dopo le imposte, di circa 2 milioni all'anno. Non voglio vantarmi di questo, però per Riccardo di dieci anni fa, questi numeri, queste cose, erano ragazzi assolutamente fantascienza. Ecco come ho fatto a cambiare così tanto la mia vita. Oh, sono venuto in classe, ho studiato, ho applicato letteralmente le regole base, ho fatto in modo di applicare tutte queste cose e di far vincere le persone che sono con noi. L'ho visto su tanti imprenditori e la vivo ogni mese su me stesso. Questo è quello che è MBS e alla fine MBS com'è che è? È come te. Se ci pensi un attimo è come te. Troverai le risposte a quello che serve a te. MBS è stata creata su misura per te, per le tue necessità da imprenditore. Nessun consulente può farlo, solo altri imprenditori potevano, non l'abbiamo fatto. Ti aspettiamo. Grazie a tutti.